Mentre i primi popoli barbarici valicavano il confine Renano, le poche legioni romane di stanza in Britannia furono trasferite sul continente per difendere il Limes romano dalle invasioni dei barbari, cosicché la provincia d'oltremare della Britannia, la quale era abitata da un'aristocrazia romana mista a celtica, completamente in difesa. Quindi nel V secolo, quando arrivarono le prime incursioni dei Iuti, degli Angli e dei Sassoni, che erano popoli barbarici provenienti dalla Danimarca e dalla Germania, furono le popolazioni locali celtiche a opporre una strenua resistenza a questo nemico. E dopo un secolo di dure lotte, gli Angli e i Sassoni riuscirono a insediarsi nel sud della Britannia, dando vita a piccoli regni indipendenti. Da parte loro non ci fu nessun tentativo di assorbire la cultura romana e quindi sia la lingua latina, parlata dai precedenti invasori romani, e sia il cattolicesimo furono spazzati via totalmente a favore del paganesimo e delle lingue barbariche, per lo più le lingue sassoni e le lingue angliche. Quindi la cultura latina nel giro di poco tempo scomparve del tutto. Quindi in effetti gli unici territori che non furono invasi dai Sassoni e dagli Angli furono la Cornovaglia e una parte del Galles, che di Ederovita ha un grosso movimento di resistenza capeggiato da una figura che è più mitica che storica, e che è il re Artù, che secondo alcuni non è mai esistito, secondo altri non era nient'altro che un capo celtico che riuscì a fronteggiare e a sconfiggere i Sassoni in alcune battaglie, tenendo viva la resistenza celtica fino alla sua morte.